Allora ragazzi mi avete detto tutti quanti di fare immediatamente la reaction al nuovo video di Marci Mi avete detto, Kendal c'è una sorpresa nel video di Marci, guardalo e fai la reazione, mi raccomando E io sto leggendo il titolo, c'è scritto, creo la torre per Kendal ma trovo il cappello della tigre Il che mi fa pensare che me l'ha rubato lui, non l'ha trovato, come fai a trovare il cappello così a caso eh? Io l'avevo nascosto in una cesta, se ce l'hai tu mio caro Marci vuol dire che me l'hai rubato Ma prima di guardare il video di Marci ragazzi ci tengo a dirvi che il 28 settembre uscirà finalmente il mio libro in tutte quante le librerie d'Italia Preordinatelo cliccando il link qua sotto in descrizione o cercando su Amazon Kendal intrappolato nel mondo virtuale che è il titolo di questo libro Ne vale la pena, è un libro veramente fantastico e io non vedo l'ora di leggere il vostro feedback positivo sulla storia di questo libro Purnoli, oggi nella Big Vanilla andrò a mandare un messaggio su Whatsapp ai miei amici Ok, e questo è vero, ha mandato un messaggio dove diceva ragazzi consigliatemi qualcosa da costruire, mandatemi un messaggio e io gli ho risposto Ed il primo che mi risponderà costerò proprio quello che mi dirà perché adesso lo scrivo nel gruppo di Whatsapp della Big Vanilla e chiedo Ehi amici Sì, Marci l'hai già detto Dai, fammi vedere dove è il mio cappellino, come hai fatto a trovare il mio cappellino? Schippa, schippa, schippa Facciamo che mi rimuovi il Big Lago per la costruzione delle tigri Ammaggio E già che ci sei, costruisci una fantastica torre a tema tigre Sì, in pratica gli ho commissionato di fare una costruzione nel mio villaggio, visto che io volevo fare la torre delle tigri Ma non sono bravo a costruire, non sono capace e lui si è offerto Ho detto, ragazzi, se avete delle costruzioni da farmi fare, ditemelo che ci faccio il video Io gli ho detto, Marci, benvenuto Ma non mi sarei mai aspettato che mi avresti rubato il cappello della tigre, caro Marci Vediamo il video comunque, non lo voglio accusare prima di vederlo Ma torre a tema tigre, ragazzi È ora che lo trova? Così almeno possiamo farle cose con calma Allora è passato un pochettino di tempo Ok, non credo che abbia ancora trovato il cappellino Andiamo avanti Avanti, 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 avanti Dov'è che lo trova? Oh, è nel mio villaggio, vediamo che dice Sapete che non ne ho la più pallida idea? Che carino il laghetto, mi piace un sacco Bravo, Kenner Grazie, grazie Lui dice di no, ma è bravo Bravo Non sono bravo quanto te, Marci Però mi sto impegnando Allora, prima di tutto Marci, io ti avevo detto di togliere tutte quelle costruzioni del Big Ladro dal mio villaggio E non l'hai ancora fatto Ah, sta cercando come posizionare la torre Ok Qua dietro Ora, provo a cercare una posizione Sta entrando nella casa del Big Ladro Ecco, forse è adesso che ruba il mio cappello Vedi che qua si scende? Questa l'abbiamo fatto noi in realtà Ok, abbiamo fatto noi questo Taglio, guarda caso ha fatto un taglio Vuoi vedere che l'ha rubata in quel momento? Sciso che la farò da questa parte Quindi iniziamo a togliere tutti gli alberi Kendall, mi dispiace se ti togli il cappello Ok, togli, togli Io voglio vedere dov'è il mio cappellino Vado avanti, ragazzi Ah, sta costruendo la torre Vediamo come viene Non l'ho ancora vista io Facciamo D5 Poi facciamo Ok, D5 Praticamente è nello stesso identico stile Della torre Hobbit Il primo step della torre è quello che poi verrà copiato per tutti gli strati Ok I colori mi piacciono Ha fatto veramente un ottimo lavoro con i colori Beh, mi piace tantissimo Ok Non dimentichiamoci che lui mi ha rubato il cappellino della tigre Forse Questa cosa qua è clamorosamente bella Puoi trasformare quella legna in legna arancione Non lo sapevo Però voglio prima finirla tutta e poi Ok, Marci Dov'è il mio cappello? Andiamo avanti Allora, il video sta per finire Secondo me lo trovo ora Se c'è qualcosa, niente Qua c'è Eccolo Se ne è accorto Se ne è accorto Lo sta prendendo Questo non l'ho messo io qua Come non l'hai messo tu? Adesso lo provo Raga, non l'ho messo io qua Devo dirlo subito a Kenda Devo mettere un cartello Ma come non l'ha messo lui? Io voglio provare Vedere come mi sta Ma che carino che è No, ma non posso Raga, non posso Non è mio Non è mio Non è mio Io pensavo me l'avesse rubato lui Devo portarlo subito Ma perché ce l'avevo io qua dentro? Questa è peraltro la cesta Che ho utilizzato Quando ho fatto la casa nel TikTok Village Quindi è una cosa recente Ma non ce l'avevo io, raga Che cosa me l'ha messa dentro? Lui crede che qualcuno Stia cercando a rincastrarlo? Cioè qualcuno ha rubato il mio cappello L'ha messo nella sua cesta Per incolparlo in un video Non ci credo No, raga Qualcuno vuole incastrarmi Qualcuno vuole palesemente Incastrarmi in qualche modo Ragazzi È già la seconda volta È la prima cosa del Big Ladro Perché è la seconda volta? Gli hanno messo anche il cappello di bella faccia in casa Kendall se stai guardando questo video Non sono stato io a prendere questo cappellino Non so se tu teneri accordo che era Non mi fido molto di questa sua affermazione Facciamo che adesso lo chiamo Ovviamente spero che mi risponda Se non mi dovesse rispondere probabilmente sarà colpevole Guarda caso non risponde Ma ragazzi mi è riattaccato Questa cosa puzza Questa cosa puzza Allora io adesso entro nella Big Vanilla E vado a controllare se ha riposato il mio cappello da qualche parte Visto che lui è innocente Si proclama innocente Ok, ora controlliamo Allora lui ha detto di aver lasciato un cartello in cui mi avvisava Facciamo che andiamo prima a dormire Ha detto di aver lasciato un cartello in cui mi stava avvisando di avere il mio cappello Vediamo se è vero Diamo un'occhiata Ha lasciato un cartello? Qua non mi sembra Mi sta chiamando Mi sta chiamando Marci TS immediatamente C'è un problema sono fuori Sei sempre fuori te è incredibile Sono in discarica Te l'ho detto Ok Quindi quando possiamo sentirci? Eh, fra un paio d'ore più o meno Va bene? Questa cosa è molto sospetta Va bene, a dopo Ciao Va bene, a dopo, ciao Che cavolo ci fa in discarica? Probabilmente sta provando a vendere o a buttare il mio cappello Allora, io mi voglio augurare veramente che abbia lasciato il cappello lì Così lo posso riprendere Oh, che entrata magistrale Altro che marci Vediamo Guarda caso il cappello non c'è ancora E dov'è allora? Dove l'ha messo? Ce l'ha nell'inventario? Scusa, lui aveva detto Ora lo ridò a Kendal Faccio Faccio un cartello dove gli dico che ho lì il suo cappello Bene, dov'è? Mamma mia Ma quante ceste hai? Marci Ok, nessuna traccia del mio cappello Di certo non mi metto a controllare ogni singola cesta E invece sì Diamo un'occhiata alla torre E io voglio proprio delle spiegazioni Allora, la torre sta venendo una figata pazzesca Wow Gli avevo detto appunto di farla simile a quella degli Hobbit Quella che è a casa mia Ed è veramente strabella Però è sicuramente da continuare Quindi io aspetto che Marci torni dalla discarica Vediamo che cosa sta facendo con il mio cappello Me lo faccio ridare E soprattutto mi aspetto delle spiegazioni Ok, ci vediamo dopo Ciao Marci? Eccomi qui Dove sei? Io sono sopra No, dove sei tu? Sei a casa? Sì, sì, sono a casa Dai, su, vieni a casa Sto aspettando sul mio balconcino Hai il mio cappello Sì, aspetta che me lo metto Così te lo faccio vedere Ti cado in picchiata in testa Aspetta No, no, non lo devi mettere Me lo devi ridare indietro Devo provare No, me lo... Ok, ciao Sono diventato un candle Mi devi proprio spiegare Come cavolo hai fatto Vieni qua, vieni Guarda Io l'ho trovata in questa esatta cesta Sì, l'ho visto nel video Che era qua In questo buchino qua Tu mi giuri che non ce l'hai messa tu? No, non l'ho messa io Giuralo Ma te lo giuro Non l'ho messa io E ti spiego anche il perché Perché dovrei farti una torre Andare a cercare delle catene E trovare il tuo cappellino Cioè, sarebbe stupido da parte mia Eh, non lo so Però se me lo giuri Effettivamente mi fido Come vedete ragazzi Il cappello non è stato modificato Perché tutti nei commenti mi avete detto Candle l'ha preso Steph per modificarlo Per farlo più grande Perché vedi che mi esce un po' di testa È vero, è vero Evidentemente non l'aveva preso Steph Per modificarlo Chissà chi cavolo l'ha preso E hanno cercato di incastrare Marci Gliel'hanno messo all'interno della cesta Ora dobbiamo indagare Marci Secondo te chi è stato? Allora, secondo me È qualcuno di inaspettato E potrebbe essere stato Nico Che è uno che fa sempre queste cose Nico? Sai che Nico è sempre quello un po' più innocente Ragazzi, scrivete tutti a Nico nei commenti Se è stato lui Fategli Siate carini, eh Non lo massacrate Scrivetegli soltanto Nico, sei stato tu a rubare l'elmo di Kendall? E tra l'altro Sai che è sparito anche quello di bella faccia? Quello non ce l'ho io Non l'ho trovato nelle mie ceste Aspetta che controllo Quindi tu hai soltanto il mio Eh infatti ho cercato anch'io Ma nei troppe di ceste sinceramente No ma non ce l'ho io Sicuro al 100% che non ce l'ho io Vieni Andiamo subito nel mio villaggio Perché ho visto che stai costruendo La torre che ti ho commissionato E ho visto che sta avvenendo Una figata pazzesca Quanto manca alla fine circa? Eh manca un po' Perché ti spiego come voglio farla Voglio fare una torre che a metà si restringe Poi c'è una piccola pallina E poi si ri... Si ri... Beh praticamente è simile alla torre Hobbit Che c'ho a casa no? Esatto esattamente così Allora qua mi piace intanto L'ingresso è bello grande È spazioso Servirà sicuramente fare un'apertura Di qualche genere Non lo so delle porte forse Io pensavo di mettere sia da questa parte Che dall'altra parte Un'entrata da tre In realtà quella che vedi sulla destra Ok quindi quella che vedi di qua Sarà il piano quello sopra Ok qua saranno tutte entrate Invece questo è il piano sopra E il bianco sembrano i baffetti Si è vero Sembrano i baffi della tigre Quanto alta la facciamo? Ovviamente altissima Eh secondo me dobbiamo fare tipo 200 blocchi Allora l'albero Fammi dare un'occhiata quanto è alto l'albero Vai guarda l'albero quant'è Allora l'albero è 140 blocchi circa È più o meno così dai Non esageriamo Io direi che deve essere almeno alta quanto l'albero circa Esatto esatto Bene Marci buon lavoro Ah ok Ma faccio da solo? Non mi vuoi aiutare neanche un pochettino? Davvero? Mi stai lasciando qui? No Ho da fare Devo andare a scoprire chi mi ha rubato il cappellino Ciao Marci Ciao Ci vediamo Buon lavoro buona continuazione Ciao